Conoscevo il coaching, anche perché sono delle attività che nell'ultimo periodo stanno prendendo sempre più piede nei percorsi formativi delle aziende. Ho fatto dei percorsi simili in altre realtà, però l'occasione datemi da allumni di fare un percorso di una giornata intera con un gruppo ristretto è stata un'occasione da sfruttare e da prendere al volo. Un'occasione importante perché sicuramente è stato un momento formativo forte, molto introspettivo, con un formatore molto competente, in grado di farci toccare con mano determinati discorsi, determinati percorsi, determinate valutazioni personali e di squadra che porterò in primis come valore aggiunto diretto per me stesso e cosa più importante anche all'interno della mia azienda per valorizzare le competenze e le performance del mio team. Ho trovato molto interessante la capacità di interagire da parte del formatore con i partecipanti, opportunità di mettersi in discussione in prima persona, cioè quindi di non fare la classica seduta formativa d'aula con il docente che spiega, ma con un docente che invece ci ha tirato dentro in prima persona con degli esercizi che ci hanno visto protagonisti, che ci hanno fatto parlare, che ci hanno fatto sperimentare determinati percorsi e che quindi ci hanno fatto mettere in gioco provando veramente sulla nostra pelle cosa vuol dire fare coaching e fare un certo tipo di percorso esperienziale molto profondo. Grazie.